Il mio non le vuoi? Le carte meta mie? Ah, dici quelle? Certo! Ti posso far... Non so che parliamo dei 10k, più 10k... Certo, anche in organi umani va bene. Guarda, quelli mi servono praticamente tutti. Dei reni quanti ce n'hai? Uno. Cosa? Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con Sacchetto, di nuovo... Che giocatore! Allora, questa volta il Real, che ci porta la sua deck profile di Matmec. Con cui... Probabilmente andrò a Londra, non so quando lo vedete, ma probabilmente ci porta... Il regionale di... Cos'era? Macerata? Bo Tolentino Macerata. Sì, sì, sì. 80 persone, non sono entrato per il rating, però ho dodicesimo, mi pare. 5-2. Onesto. Best deck? Assolutamente. 40 carte? Posso un'integgola lì? Aspetta, Magic Corner in descrizione. Ovviamente. E se dovete liberarmi delle carte, Instagram in descrizione. Il best. Detto questo... Vai, io me ne valgo. Ah, i nomi di Matmec, 3, 2, 2, 2 e 3. Questi perché sono forti. Questi perché stanno a troppi soldi. Questi a 3 perché costano due centesimi. Una buona votazione. Esattamente. Questi costano qualche... Esatto. 3 Xeed perché c'era stampa secret, quindi toccava a giocarli. L'HT, tante perché tante HT è sempre bene. 3 Veiler, 3 Ash, 2 Murner perché sono fighi. 2 Kaiju dovrebbero essere quelli luce. E cattati, fanne Ka. Fanne veramente Ka. I Kaiju sono meglio. I Kaiju sono meglio. 3 Book perché questi te coprono pure l'anima. E 3 Imperma perché ha detto c'è la ulti che faccio, non è gioco. Per i Sercini, 3 Small War perché ce l'avevo da pacco. 2 Mining perché ce l'avevo da pacco. Stessa roba per Prosperity. E Prosperity figa dentro il matmatch perché ti fa cercare quello che ti pare. Desire non ti serve. E vabbè, le spell matmatch, quindi equazione, la trappola, la superfattoria. Abbastanza standard. Di Delextra, 2 Alimbertiano e Laplacian. Standard. Delextra è tutto abbastanza standard. Quindi Ling, 2 Splash, Cyber, Sizzul, Mask, Unicorno, Gemmer, Talker. Doppio access code per Diablosis. E la Megatech che è Arrival. Che è locale da 4000 immune con il sottosuperfattoriale e non puoi perdere. Non puoi assolutamente perdere. Non è best card. Assolutamente. Non è best card. E side, abbastanza spicy però ci sta. 3 Contact, best htl format. Questa per i Beast e per la Puppet Lock. E la best Normal Summon. 3 Denko e tu ce l'ho Secret. Queste forti contro Labyrinth. 3 Cosmic perché tu ti ha di Denko, loro ti fanno skill drain, tu fai ok. Cosmic e poi fai Normal Denko e concedono. E da primo solo 3 carte perché tanto ci sono infinite ht, due antispel che sono barrier ma più forti. E a pointer perché vedere a mano tiri superfattoriale è fortissimo. E niente. Ringrazio ancora Cappello per avermi potuto far fare la profile nel suo canale. Lo stavamo registrando. Il meme, il meme, il meme del cappello. Cappello, best htl, smette di fare lo youtuber e inizia a fare il comico. Bene, sa che te lo ringrazio per essere stato qui e aver portato la sua saggezza. Grazie. Sempre bello essere dal best htl youtuber d'Italia. Detto questo ragazzi, state mesi e noi ci vediamo lunedì sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.